Prima di tutto devo ringraziare la mia amica Sara SaraMV97 il suo profilo Instagram perché tempestivamente mi ha fatto arrivare questo Vabbè non ve lo faccio vedere tutto nel senso sì cioè sentire tutto anche perché ogni tanto partiva qualche parolina che è meglio non ascoltare però intanto che parlo voi vedete insomma le immagini di Cristiano Ronaldo l'arrivo alla J Medical così come ci si immaginava che fosse perché sapete quando arriva lui insomma si prende tutta la piazza in ogni senso ringrazio anche i colleghi Giovanni Albanese e Romeo Agresti per altri filmati che mi hanno inviato questa mattina giusto per farvi capire che questa mattina non ero lì al J Medical ma ci sarò domani da Massimiliano Allegri oggi per chi mi vede il giorno 27 martedì alle 14.30 conferenza stampa di Massimiliano Allegri ci torniamo dopo intanto continuiamo a parlare di quello che si è visto oggi perché non c'era solo Ronaldo che si sono visti anche De Litt Rabiot Ramsey Demiral per un controllo perché aveva già sostenuto le visite mediche e Kuluseski che è stato molto acclamato a sua volta dagli tifosi da tutti i ragazzi che c'erano e certo quando c'è Cristiano Ronaldo inevitabilmente lui ruba la scena un po' a tutti ed è normale ed è giusto che sia così quindi arrivo allenamento con Tinassa Allegri già qui adesso si ricama incontro con Allegri avranno parlato ovvio che si sono incontrati avranno fatto allenamento ma non credo che ci sia stato una specie di summit necessariamente perché è arrivato Cristiano Ronaldo e allora devono subito parlare del suo ruolo che avrà in campo di come si dovrà armonizzare con Paolo Di Bala perché con Morata magari già lo riesce a fare meglio no cioè ragazzi è arrivato si è allenato un po' di respiro dopodiché si affronteranno con l'allenatore come si chiamano Allegri le tematiche relative alla prossima stagione tutto qua cioè non c'era niente di particolare cioè che è arrivato Allegri lo prende lo porta al suo ufficio allora te mi raccomando te devi giocare in quella posizione te devi fare il centro avanti e quando ci sono le punizioni a destra le battite e quando ci sono le punizioni col piede sinistro le batte Paolino Di Bala lo stato chiaro? eh no cioè no non è andata così insomma sono cose che si vedono poi nel 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 corso dei giorni e quando ci sarà occasione di toccare determinati argomenti verranno toccati non è che cioè che sia stato un summit di governo no assolutamente no si è allenato stop adesso è a casa domani mattina torna ad allenarsi e via finisce lì per il momento per il momento naturalmente finisce lì oh boh 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 caio george caio george si perché c'è c'è effettivamente dai ho preso qualche informazione c'è questa ne parla anche one football ma comunque c'è questa questo interessamento della juventus per questo attaccante 2002 del santos però c'è un però c'è un però e il però è dato dal fatto che il ragazzo va in scadenza a dicembre di campionato brasiliano diverso dal nostro va in scadenza a dicembre quindi a gennaio arriva cioè arriva a gennaio si libera e la juve visto che c'è l'interessamento del benfica che è abbastanza avanti mi dicono e del milan che comunque sta proponendo soldi per il cartellino dicevo la juve soldi non ne ha non ne ha cioè non non vuole partecipare ad un'asta quando in realtà può avere il giocatore a parametro zero però però voi mi direte un conto averlo adesso un conto averlo a gennaio sì stiamo parlando di un ragazzo del 2002 cioè non stiamo parlando di un'operazione per un giocatore che sicuramente giocherà tutta la stagione da titolare perché è un fenomeno no no è un buon attaccante di bella prospettiva perché comunque stiamo parlando di 2002 19 anni sicuramente un buon talento però non c'è da far follie anche perché non ci sono i mezzi per fare follie nella juventus in questo momento allora qual è la strategia la strategia è che praticamente se è vero che le altre due società sono abbastanza avanti magari con il santos la juve sta lavorando con il giocatore praticamente cioè anche tramite i suoi agenti ovviamente parlando con il giocatore per praticamente convincerlo ad arrivare a a fine dicembre primo gennaio a svincolarsi e quindi arrivare a Torino agosto zero poi non so se potrebbe arrivare subito a gennaio o all'inizio della successiva stagione questo non lo so sinceramente ma credo subito a gennaio perché lì funziona diversamente ecco questa è la strategia della juventus per Caio Giori quindi da escludersi una partecipazione ad un'asta ma c'è questo interessamento se poi il giocatore si dovesse convincere dalla società perché la società prenderebbe soldi si parla di 5-6 milioni comunque offerti dal Benfica e poco meno dal Milan a quanto risulta se la società si convince e riesce a convincere il giocatore va bene Caio Giori è andrà all'altra parte o al Milan del resto mica si è fatto scappare Alan da Juve no? sì o meglio anche questo si è scoperto poi non se ne fece nulla era un attaccante del Molde aveva 16 anni e Cherubini Cherubini era andato a vederlo a proporlo poi non se ne è fatto nulla Cherubini che allora lavorava per l'Under 23 nell'epoca di Marotta Paratici l'aveva visionato per portarlo praticamente alla squadra primavera alla squadra giovanile ma poi non se ne è fatto nulla però vabbè ragazzi allora vi posso dire che nel periodo ve lo dico dai ve lo dico tanto lo so mi è stato detto da una persona di quell'epoca che un certo Cristiano Ronaldo prima di andare prima di andare al Manchester United dallo sport in Lisbona era stato anche a Torino a fare le visite medico comunque era stato a Torino ecco era stato anche nella sede della società poi dopo si sono successe delle cose e niente non è stato più fatto nulla non so se esattamente tra il sport in Lisbona o già comunque il periodo lì poi dopo c'è stato un processo e l'affare è saltato insomma questo ve lo posso dire perché mi è stato detto da una persona che in quel periodo lì era molto importante per la Juventus ecco va bene chiudiamo questa parentesi qua vi stavo dicendo che domani sarò alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri anche perché se no lui non la faceva cioè se non andavo io lui non parlava domani era la condizione qua non o c'è balza o non parlo no vabbè sto scherzando dai naturalmente poi non so se mi toccherà la prima domanda come i vecchi te i vecchi due anni fa perché poi sembrano è tornato due anni fa è andato via sono volati questi due anni se ci pensate un attimo sono volati via cioè come tutti gli anni purtroppo volano via con i miei capelli insomma volano via come gli anni domani sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che sia la prima la seconda la terza la quarta la quinta la settima l'ottava non lo so quante domande ci saranno sarà ve lo dico personalmente bello per me è una bella soddisfazione tornare a rivolgere un quesito al neo neotecnico no insomma a colui che sembra che non sia mai andato via sostanzialmente comunque nella testa della gente era sempre rimasto lì è inutile che si si vada oltre insomma cioè è sempre rimasto lì come se fosse stato parcheggiato no parcheggiato sono quelle sensazioni cioè tu quando pensi ad Allegri pensi alla Juve quando pensi alla Juve pensi ad Allegri come era successo con l'Ipi e succede ancora adesso con l'Ipi pensi a l'Ipi pensi alla Juve no si poi c'è il mondiale 2006 siamo perfettamente d'accordo ma dovrei identificare con la Juve no Allegri praticamente è la stessa cosa poi aveva vinto lo scudetto con il Milan aveva salvato il Cagliari in una maniera fantastica la sua prima esperienza nella squadra di Serie A per carità però lo abbigna la Juventus è inutile girarci a tua e credo che domani ci saranno tante belle tematiche da affrontare dal perché dal cosa si è convinto a tornare alla Juventus ci sarà anche Andrea Agnelli tra l'altro quindi potremo affrontare anche un po' di temi diversi non credo alla Superlega perché non se ne parla più perché mi sembrava che la Champions fosse out per la Juventus invece pare che giochi la Champions la Juventus mi sembra sembra poi dopo non aspettiamo fino al momento del sorteggio fino alla vigia della prima partita poi dopo chissà cosa succede però se tanto mi da tanto ovviamente giocherà la Champions quindi come dicevo ci saranno diversi temi da affrontare non ultimo quello della coesistenza tra Di Bala e Cristiano Ronaldo e io so già cosa risponderà lui che non è un problema tanto lui la butterà in vacca o che è brutto dire che la butta in vacca e attenzione la sua forza è sempre stata quella di sdrammatizzare di minimizzare ma nel senso di semplificare le cose nel senso di semplificarle cioè laddove c'è il problema insommontabile di fronte al quale magari qualche altro suo collega si presenta con la faccia cupa e fa il ragionamento serio magari anche un po' contorto preoccupato eccetera lui la affronta col sorriso una situazione una soluzione si trova ecco poi la trova tante volte altre volte non la trova ma conta anche l'approccio che si ha alle problematiche conta anche la rappresentazione che tu fai di queste problematiche all'esterno per evitare che l'esterno metta troppa pressione su queste problematiche non fa miracoli allegri è un allenatore è una persona non fa miracoli ma ha questo pregio di semplificare le cose e togliere l'attenzione in primis dai suoi giocatori mettiamoci anche da se stesso e all'ambiente circostante secondo me questa è una bella caratteristica della persona allegri che va ovviamente a incidere sull'allenatore allegri e specialmente in un paese come il nostro nel quale a volte le problematiche calcistiche sembrano problematiche di guerra di terza guerra mondiale beh uno che ogni tanto sdrammatizza a me piace onestamente a me piace e che riconduce il tutto laddove merita di essere ricondotto poi dite che sono di parte va bene sarò di parte sì sono di parte ma a me piace questa persona mi piace come allenatore mi piace nel suo approccio poi non sto dicendo che è il più grande allenatore del mondo attenzione non fraintendetemi però sono molto felice che sia tornato ad allenare tutto qua è molto semplice è semplice corto muso ho parlato fin troppo vi ho fatto anche vedere il filmato di Cristiano Ronaldo qua si sfora ragazzi basta basta fa anche caldo domani post conferenza ci sarà il video post conferenza cercherò di insomma di presentare la situazione un po' prima ovviamente ci sarà anche un servizio su sport media delle 13 prima della conferenza e dopo la conferenza parleremo insomma abbiamo tanti argomenti basta canale social miei continuate a seguirmi anche il canale mio figlio l'ho battuto crossbar challenge l'ho battuto l'ho battuto la rivincita ci sarà la bella ma verrà giocata sulle spiagge di Rimini la bella crossbar challenge sulle spiagge di Rimini ma ne parliamo la prossima settimana perché un po' di vacanza la prendo ciao basta basta ciao ciao ciao